E questi sono alcuni dei mezzi che usano i vigili del fuoco di Como oggi qui all'esterno della chiesa di San Giuseppe dove c'è stata la festa di Santa Barbara, il patrono del corpo, molto sobria la cerimonia, però ci sono comunque i mezzi per ricordare anche ai comaschi la loro importante, fondamentale a volte presenza. Grazie.